Benitalia 2022 continua, ci troviamo allo stand MaChe, un brand di proprietà della Breakshop SRL e siamo in compagnia della sua amministratrice Maria Rosaria Fiorito. Buongiorno Maria Rosaria e benvenuta. Salve a tutti, buonasera. Bene Rosaria, che cos'è MaChe? MaChe è un'idea che nasce circa 15 anni fa, è un'azienda a carattere familiare che voleva sposare un po' la filosofia del buono, quindi voleva racchiudere insieme ai prodotti di caffè in cialde e capsule tutti i prodotti correlati al caffè, quindi cioccolato, spalmabili, licuori, cioccolateria in generale, biscotteria, insomma tante golosità che potevano essere accompagnate al caffè e che potessero allietare il momento della pausa. E come si è sviluppato con il progetto? È diventato un network con più negozi? Esatto, sì. Noi nasciamo come rivenditori di caffè in cialde e capsule con l'online, poi abbiamo aperto quattro negozi fisici, tre sono in Campania e uno è in Emilia Romagna e continuiamo ad essere presenti online, abbiamo sviluppato in occasione della precedente fiera e di questa delle offerte che sono dedicate anche ai rivenditori e ai privati, perché ci rivolgiamo sia al mercato dei privati che al mercato delle rivendite, dei rivenditori, dei piccoli negozi in cialde e capsule che cercano un marchio alternativo, diciamo, ai marchi, quelli classici che sono presenti sul mercato, i grandi brand, diciamo. Attualmente voi realizzate prodotti a vostro marchio, ma che anche per quanto riguarda il caffè? Esatto, sì. Noi abbiamo tutta una gamma completa di cialde e capsule per qualsiasi sistema ormai. Cerchiamo sempre di tenerci aggiornati su tutti i sistemi esistenti, quindi cerchiamo di essere al passo con il mercato. Quindi partendo dalla classica cialda filtro carta, che è quella più diffusa attualmente, poi ci sono tutti i sistemi a capsule per qualsiasi macchina e poi tutta la gamma, diciamo, di bevande, quindi sia solubili per le capsule che in foglie per le cialde, quindi quelle più naturali sostanzialmente. Ma non termina qui, perché io vedo già, per esempio, anche solo alle nostre spalle, avete una lunga serie di prodotti, accessori, commessibili, alimentari, che proponete ai vostri clienti. Esattamente, sì. Abbiamo cercato di accostare a tutta la gamma di caffè una serie di golosità che vanno dai licuori alle spalmabili, cioccolatini, cioccolate, tavolette di cioccolato, croccantini, zuccheri aromatizzati, gelati, granite, adesso verrà l'estate e quindi ci siamo attrezzati anche per il periodo estivo, praline e qui abbiamo dietro di noi tazzine di cialda ricoperte di cioccolato, buffer, cucchiaini, cioè è un mondo, cioè è un mondo. Ecco, in questo mondo su quale sito possono andare a conoscerlo? Allora, abbiamo il nostro sito www.mache.com, che è un sito di commercio elettronico dedicato sia ai privati che ai rivenditori, quindi per qualsiasi esigenza possono rivolgersi al sito o a noi, diciamo, chiamarci in ufficio e i nostri operatori saranno disponibili per assistere a qualsiasi esigenza. Ecco, vogliamo dare infine un indirizzo di posta elettronica da poter fornire affinché appunto chi desidera entrare in contatto con voi, farvi delle domande specifiche su alcuni prodotti o chissà chiedere di diventare vostri partner commerciali, può scrivere? Certo, infochiocciolamache.com, l'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento per qualsiasi esigenza. Ecco, ricordiamo che macche.com è senza l'accento sulla E finale della parola macche. Grazie Mario Rosario, sei stata davvero molto cortese, ti ringrazio per la disponibilità e ti invito a salutare gli amici di BandinTV.it Buona serata a tutti, grazie mille. 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 Grazie mille.